Se il pronto soccorso del veneziale di Sernia è stato spesso associato ai gironi dell'inferno, la novità è che ora c'è chi vuole impersonare Caronte, che nella mitologia greca trasportava le anime nell'Ade. Sono tre infatti le candidature pervenute per il conferimento dell'incarico di responsabile del pronto soccorso dell'ospedale di Sernia a seguito dell'indizione di un avviso interno dello scorso 28 agosto. Lo ha reso noto la stessa Asrem attraverso una delibera del direttore generale con cui è stata nominata la commissione che valuterà i tre curricula. Nomi dei medici che hanno risposto all'avviso per il momento ancora top secret, ma che qualcuno si sia fatto avanti è già di per sé una notizia. Tanti troppi infatti con corsi andati deserti in un contesto sanitario poco attrattivo. Il pronto soccorso dell'ospedale veneziale infatti deve fare conti con la tavica carenza di personale sopperita solo in parte da medici stranieri arrivati in Molise e così il personale in servizio è costretto a turni estenuanti con numerosi pazienti da visitare in attesa per ore prima di ricevere cure. Al di là dei pochi medici presenti in pronto soccorso, infatti, il reparto di emergenza urgenza del veneziale ha un bacino d'utenza di circa 80.000 unità, una condizione di stress che ha portato l'ex primario Lucio Pastore a gettare la spugna chiedendo e ottenendo, dopo decenni di duro lavoro, di andare in pensione. Ora si apre un altro capitolo, a breve sarà nominato un nuovo primario. Toccherà a lui cercare di risollevare le sorti di un reparto in difficoltà garantendo prestazioni adeguate ai pazienti che raggiungono il pronto soccorso di Sernia. Un obiettivo non facile, nemmeno per Caronte.